Non è troppo presto partire dai bambini perché noi non dobbiamo indottrinare nessuno, noi dobbiamo proporre i principi della nostra Costituzione, i valori e dare ai bambini il tempo di crescere insieme a questi, ragionando, formandosi un pensiero autonomo, in proposito e quindi penso che si possa partire veramente con i bambini anche piccolissimi. Grazie.